La Filippa La Filippa La Filippa Mi vedi col corpo verso di noi? Ecco, bravo così Guardami Francesco A me? Francesco a me? Ok Anche qua Francesco sull'acqua. Anche qua Francesco. La verdura va sempre più. Grazie. 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 Anzi accettate. Intercetto. Grazie. Grazie. Aspetta ti faccio una foto del cellulare. No. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Aspetta a me, sta giugno. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Anche qua. Vuoi cantare e perdere la mano? Anche qua Giulio. Dritta, dritta. Non fare. Non te? Ok. Vieni, vieni. se sei davvero chi. Questa è una qui. Ma la mia, questa è qui? Grazie. Vieni, da questa cassa. C'è la cassa. Vieni, la carichi qua cassa. Vieni, la fai qua, fai qua. Vieni, vieni, la cisso. Vieni, la cassa c'è la... Vieni, la fai qua... Vieni, la mia marito, marito. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.